In seconda fila 9 Magno Madorio, 10 Maremma Spin, 11 Mayaxe, 12 Meravigliosa Bamba, 13 Magliero, 14 Moicano di Wem. Master Superbitte è favorito 2,54, 2,88, Mauta degli Urivi, 4,52 Martina Neck. Si trae magia dell'avvento, sacco della macchina, riga Loppo Master Superbitte. Lottano per il comando, Mauta degli Urivi, Mauro Camma e Macrudo Jet. La qualifica per Master Superbitte, spira Mauta degli Urivi dopo 200 metri in 3,17. E guida a metà della prima curva, 2 avanti a Mauro Camma che precede Macrudo Jet. Poi in quarta posizione segue Martina Mecca, i primi 400 metri in 29,8. Si va davanti alle tribune con la lidere favorita, Mauta degli Urivi, che tira e remi in barca. Com'è la risalita meravigliosa Bamba e l'anticipo su Molito B, quando i primi 600 metri se ne vanno in 44,9. Sposta anche Martina Mecca che non si lascia coprire e avanza a largo sulla seconda curva. Intanto il mezzo miglioriziale viene completato, la malta degli Urivi in un minuto e sei decimi. Della sua via Mauro Camma, poi allargo Martina Mecca, allunga la lidera, palo lontanissimo, prende almeno l'alzio di metri a Mauro Camma. L'alzio di corsa è in 1,15,3, 14,7. La passione di dentro guadagni a me gli accessi sul palo di Macrudo Jet e anche di Mauro Camma. Quando si è all'imbocco della curva finale, 3 quarti di miglio, scottati in 1,29,8, 14 e mezzo di paletto. E Martina Mecca è in fuga, 3,5 al palo su. Martina Mecca è in miglia, per le vie brevi anche Bagno Madorio. Ma Martina Mecca è in una dimensione tutta sua. Gli altri partenti per un'altra corsa, perché Martina Mecca è in seconda ma è in critica. Martina Mecca è in un'altra corsa, perché Martina Mecca è in un'altra corsa, perché Martina Mecca è in un'altra corsa.